Ciao Tiago, complimenti, quarta vittoria consecutiva in uno stadio molto difficile, un primo tempo complicato per voi, siete stati bravissimi nella ripresa a mettere sotto la Lazio col gioco. Ti chiedo che vittoria è stata per il proseguo del campionato e se ti senti e vi sentite orgogliosi tu e la squadra di far rivivere alla città i tifosi scontri diretti con Lazio, Roma, Juve, con questo tipo di squadre. Ti senti un po', sì perché prima gli scondiretti erano con altre squadre, per far ritornare a rivivere perché il Bologna li faceva in passato, ti senti un po' orgogliosi, vi sentite un po' orgogliosi di questo? Perché venire qui, mettere sotto la Lazio per tutto il secondo tempo, vincere, quattro vittorie consecutive, siete quarti in questo momento, vi sentite un po' orgogliosi di questo? Grazie. Ah, scusa, ho sbagliato io. Orgoglioso no? Molto orgoglioso, molto orgoglioso, molto orgoglioso di vedere la nostra squadra vincere giocando bene, giocando a calcio, rispettando il gioco, facendo le cose giuste nel campo fino all'ultimo minuto, perché anche alla fine, sul 2-1 abbiamo continuato a giocare, difeso, come una cosa normale contro una squadra come la Lazio, però quando abbiamo recuperato abbiamo uscito da dietro, abbiamo creato anche altre situazioni di gioco dove le abbiamo messo in difficoltà e sono soddisfatto perché continuiamo a competere contro delle squadre che nel nostro campionato, sono squadre che l'altra sera, tre giorni fa, stavano giocando contro il Bayern Monaco e hanno vinto. Sono orgoglioso di questo ambiente, di questa atmosfera che si respira, perché alla fine della partita ho visto il presidente dentro del campo che era molto contento con i suoi giocatori, ho visto i giocatori che erano estrafelici per la partita che avevano fatto, perché si sentono forti, sono forti oggi, e per la nostra gente, festeggiare, godere il momento, godere la vittoria, che è una cosa bellissima, una vittoria bellissima, meritata. Questo entusiasmo mi piace tantissimo perché so che abbiamo dei ragazzi intelligentissimi che rientreremo a Bologna felici e contenti, loro vanno a pensare ad altro per un giorno, ma dopo lì è finito e ne penseremo già alla prossima contro la Sverona, una squadra molto complicata oggi. Si è visto ieri sera, una squadra sa a quello che sta giocando e noi concentrati e determinati per continuare sulla nostra linea e strada e pensare già alla prossima. Tiago, ti chiedo tre momenti della tua gara. Come hai vissuto la parata di Skorupski su Isaksen, quel salvataggio di Lukumi dopo che ha fatto due ore in costruzione e il gol di Lazzuzzi? Questi tre momenti sono momenti marcanti, sicuramente, però ci sono altri. Ci sono altri momenti dove la Lazio veniva a pressare e vedo a John che si gira da una parte dell'altra e esce la palla interna senza avere nessun timore. Vedo a Sam che fa la stessa cosa, vedo a Ussama nel secondo tempo per uscire una palla che non si hanno capito benissimo lui e Victor per la cosa giusta di fare e andare dall'altra parte dentro la nostra area di rigore. Coraggio, sono delle cose che i ragazzi ce l'hanno dentro, sono coraggiosi, sanno che abbiamo sempre un vantaggio giocando in questo modo. hai detto tre situazioni marcanti, però durante la partita sono successe oggi delle cose fantastiche da vedere e da analizzare sicuro perché tante possiamo migliorare ancora, altre dobbiamo continuare e giocare in questo modo. Dopo una situazione nel primo tempo, lo stesso John che ha scivolato, poi è successo un'altra con un passaggio, gli errori come dico esistono sempre nel calcio l'importante è come uno continua la sua reazione e John ha continuato a giocare nello stesso modo, ha cresciuto tanto in partita e questo significa che è un ragazzo che sta bene, sta bene fisicamente, sta bene mentalmente, tecnicamente molto ben dotato e dà un grande aiuto alla squadra. Poi in generale la squadra ha fatto un'ottima partita anche quelli che sono entrati e quelli che erano in panchina perché hanno vissuto la partita nel modo giusto, con entusiasmo, con gioia, soffrendo anche dei momenti per i compagni che sono in campo perché anche loro in panchina vogliono aiutare. Bene, sono contento e soddisfatto per quello che abbiamo fatto oggi. Buon pomeriggio mister, per il presto di vedere a rompipallone.it. Due domande al volo, cosa c'era in quell'abbraccio con Zirk Zea al fischio finale e che prospettive vede per Fabian che ormai è a tutti gli effetti un imprescindibile del suo 11? Joshua è un abbraccio di ammirazione, di affetto di un ragazzo che se lo merita. Questi gol, queste giocate che fa non viene per caso. Grazie.